Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda puntata del Daily Songbook la canzone di cui vi parlo oggi è Get Lucky di Daft Punk pubblicata il 19 aprile 2013 questo è il primo singolo estratto dal loro album che uscirà tra in circa un mese esattamente il 21 maggio 2013 otto anni dopo la loro ultima fatica discografica Human After All se escludiamo però appunto la colonna sonora che hanno fatto per Tron Legacy allora in questo singolo è presente la collaborazione di Fire Williams che molti di voi appunto conosceranno per essere fondatore comunque sia dei Nerd Ones e nonché frontman dei nerd quest'ultimo gruppo che ho conosciuto, che ho sentito per la prima volta dieci anni fa all'incirca con un singolo che è passato su in TV di She Most To Move, un funk elettronico che allora mi gastava tanto era tanta tanta roba, un ottimo gruppo probabilmente avrebbe meritato di più di quel successo abbastanza limitato che ha avuto comunque, parlandovi molto brevemente della genesi della canzone già da un mese e mezzo all'incirca il YouTube elettronico francese pubblicava delle piccole anteprime, anteprime di circa 10-15 secondi di questo brano soltanto che è successo un piccolissimo problema ossia un DJ di Cosenza abbia montato tutti questi piccoli anteprime e abbia pubblicato il risultato finale di questo montaggio su internet e molti l'hanno scambiato come il singolo appunto Get Dark come il singolo dei Daft Punk soltanto che poi appunto si è dimostrato un fake questo brano è stato smentito dal duo e diciamo sì, naturalmente il riff, la melodia, le sonorità, il testo sono gli stessi quello sì, però la struttura è totalmente stravolta quello, indubbiamente comunque, di fatti poi il singolo è uscito su internet è stato pubblicato su internet il 19 aprile e ad oggi è il singolo più ascoltato sull'applicazione uscita da anche quest'ultima uscita da relativamente poco applicazione per Android, per cellulare, comunque per PC ossia Spotify poi però appunto parlandovi della canzone in sé per sé è contraddistinta da questa melodia funky disco con altre sonorità comunque sia sperimentali per la band su cui non si sono mai soffermati, che non hanno mai provato riff di chitarra appunto su questo stile è suonato da Neil Rogers, chitarrista dei Chic che alcuni di voi si ricorderanno per Le Freak uno dei gruppi più interessanti per quanto riguarda il panorama disco funk degli anni 70-80 e nonché poi successivamente collaboratore di, produttore di Duran Duran Mick Jagger, David Bowie, tantissimi tantissimi altri e la struttura della canzone è appunto due strofa ritornello, strofa ritornello cantati appunto da Ferro Williams poi un bridge in cui la batteria è sostituita da dei battiti di mano bridge anche questo è cantato da Ferro Williams e poi nel ritornello dopo entra nel brano la voce sintetizzata ormai appunto entrata nella storia degli ultimi 15 anni di musica la voce sintetizzata dei Daft Punk e nell'ultimissimo ritornello, nel ritornello finale Ferro Williams e i Daft Punk due ritano nell'ultimo ritornello poi interessante è anche quel piccolo solo di synth che va a suonare e che va appunto a far terminare la canzone sicuramente è un melodia interessante come detto ha altre sperimentazioni per questo gruppo sperimentazioni anche già affrontate in No Man After All in cui si sono diciamo appunto spostati dal synth pop che aveva un po' caratterizzato l'album Discovery e appunto Human After All alcuni lo definiscono un capolavoro altri l'hanno stroncato a mio parere no, ha nulla da invidare di Discovery anzi più in certi parti è anche superiore senza alcuna ombra di dubbio comunque passando al testo Get Lucky appunto è una frase inglese che indica appunto fare sesso di fatti il testo cioè comunque sia il verso principale tradotto in italiano appunto dice sempre restiamo svegli tutta la notte per fare sesso restiamo svegli tutta la notte per fare sesso il ritornello principalmente appunto oltre a questo verso fa in alcune parti lei resta sveglia tutta la notte fino al smontare del sole io resto sveglio tutta la notte per ottenere qualcosa lei resta sveglio tutta la notte per divertirsi io resto sveglio tutta la notte per fare sesso poi vabbè delle strove comunque sia anche interessanti da un punto di vista testuale nulla di che è nulla di poetico però comunque ad esempio nella seconda strofa il presente non ha ritmo il tuo dono è continuare a donarti cos'è questo sentimento che provo se vuoi andartene io vengo con te e devo essere sincero brano che mi ha interessato e brano che quantomeno spero faccia togliere un po' dalla testa della gente è veramente quel gentleman di Tsai che veramente come ho detto in un mio precedente soundblog non è qualcosa di letteralmente imbarazzante è veramente una delle canzoni peggiore che abbia ascoltato ultimamente poi appunto per di più per il fatto che sia una coppia palese del Gangnam Style però il fatto appunto ancora più mosce ancora più noiosa e poi nonché appunto diciamo faccia ecclissare anche definitivamente questo è l'album Shake un ritorno in grandi stili da punk e ora non rimane altro che ascoltare che comunque sia l'uscita dell'album che appena esce lo comprerò senz'altro e ve lo recensierò per la vostra gioia allora il link della canzone ve lo metto qui e qui vi metto anche per vostra curiosità appunto il link del fake di questa canzone che era stato pubblicato un poco tempo prima dell'uscita effettiva del singolo la seconda puntata del Daily Soundblog finisce qui ditemi che cosa ne pensate di questa canzone con un commento oppure se volete con un video esposto commento qui sotto ciao a tutti ragazzi e alla prossima